Combrè Capitolo I Non avevo smesso, dormendo, di ragionare su ciò che avevo appena letto, ma quelle riflessioni avevano preso una piega un po' particolare. Mi sembrava di essere io stesso l'oggetto di cui il libro si occupava. Una chiesa, un quartetto, la rivalità fra Francesco I e Carlo V. Questa convinzione sopravviveva ancora qualche istante al mio risveglio. Non offendeva la mia ragione, ma premeva sui miei occhi come una squama e impediva loro di rendersi conto che la candela non era più accesa. Poi cominciava ad apparirmi inintellegibile, come dopo la metempsicosi, i pensieri di un'esistenza anteriore. L'argomento del libro si staccava da me. Ero libero di pensarci o meno, ma subito recuperavo la vista, ed ero molto stupito di trovare intorno a me un'oscurità dolce e riposante per i miei occhi, ma forse più ancora per l'animo mio, al quale essa pariva come una cosa senza ragione, incomprensibile, anche di veramente oscuro. Mi domandavo che ora potesse essere. Udivo il fischio dei treni che, più o meno di lontano, come il canto di un uccello in una foresta, segnando le distanze, mi descriveva la distesa della campagna deserta, dove il viaggiatore si affretta verso la stazione più vicina. Il sentiero che percorre gli resterà impresso nella memoria per l'eccitazione che suscitano in lui luoghi nuovi, vesti inconsueti, i discorsi appena fatti, gli addi sotto la lampada estranea, che lo seguono ancora nel silenzio della notte, la dolcezza prossima del ritorno. Appoggiavo teneramente le mie gote alle belle gote del guanciale, piene e fresche, come quelle della nostra infanzia. Accendevo un fiammifero per guardare l'orologio. Quasi mezzanotte, è il momento in cui il malato, che è stato costretto a mettersi in viaggio e ha dovuto dormire in un albergo sconosciuto, svegliato da una crisi, si rallegra nello scorzere sotto la porta una striscia di luce. Che gioia, è già mattina. Tra pochi istanti i domestici si alzeranno, potrà suonare il campanello, verranno a dargli aiuto. La speranza del conforto gli dà coraggio nella sofferenza. Ecco, è sembrato di udire dei passi. I passi si avvicinano, poi si allontanano. E la striscia di luce sotto la porta è scomparsa. È mezzanotte, hanno spento i gas. L'ultimo domestico se n'è andato, e bisognerà passare tutta la notte a soffrire, senza rimedio. Mi riaddormentavo. A volte non avevo più che brevi risvegli di un attimo. Il tempo di percepire gli scricchioli organici delle buaserie, di aprire gli occhi per fissare il calidoscopio dell'oscurità, di assaporare, grazie a un momentaneo berlume di conoscenza, il sonno in cui erano immersi i mobili, la camera, quel tutto di cui io non ero che una piccola parte, e nella cui insensibilità tornavo presto a confondermi. Oppure, dormendo, avevo raggiunto senza sforzo un'età definitivamente conclusa della mia vita passata. Avevo ritrovato qualcuno dei miei terrori infantili, come quello che il mio prozio mi tirasse per i boccoli, e che era svanito il giorno, inizio per me di una nuova era, in cui me li avevano tagliati. Durante il sonno avevo dimenticato quell'episodio. Ne ritrovavo il ricordo non appena riuscivo a svegliarmi, per sfuggire alle mani del mio prozio, ma per precauzione affondavo completamente la testa nel guanciale, prima di ritornare nel mondo dei sogni. A volte, come Eva nacque da una costola di Adamo, nel sonno, da una falsa posizione della mia coscia, nasceva una donna. Formata dal piacere che stavo per assaporare, mi immaginavo fosse lei stessa a offrirmelo. Il mio corpo, che sentiva nel suo il mio proprio calore, voleva unirsi a lei. Mi svegliavo. Gli altri esseri umani mi apparivano lontanissimi a confronto di questa donna che avevo lasciato da pochi attimi appena. La mia gota era calda ancora del suo bacio, il mio corpo spossato dal peso della sua persona. Se, come a volte accadeva, vedevo in lei lineamenti di una donna che avevo conosciuto nella vita, mi dedicavo interamente a un unico scopo, ritrovarla, come quelli che si mettono in viaggio per vedere con i propri occhi una città desiderata e immaginano si possa godere nella realtà l'incanto della fantasia. A poco a poco il suo ricordo svaniva. Avevo dimenticato la creatura del mio sogno. Un uomo che dorme tiene in cerchio intorno a sé il filo delle ore, l'ordine degli anni e dei mondi. Lvegliandosi, riconsulta istintivamente e vi legge in un attimo il punto della terra che occupa, il tempo che è trascorso fino al suo risveglio. Ma i loro cicli possono confondersi, spezzarsi. Se verso il mattino, dopo un po' di insonnia, s'addormenta, mentre sta leggendo in una posizione troppo diversa da quella abituale, basterà un braccio sollevato a fermare e a far indietreggiare il sole. E nel primo istante del risveglio egli non saprà che ora sia, e penserà di essersi appena coricato. E se prende sonno in una posizione ancora più irregolare e divergente, per esempio dopo cena, seduto in poltrona, allora lo sconvolgimento sarà totale in quei mondi usciti dalla loro orbita. La poltrona magica lo farà viaggiare a gran velocità nel tempo e nello spazio, e al momento di aprire le palpebre, crederà di essersi coricato alcuni mesi innanzi, in un'altra contrada. Ma bastava che il mio stesso letto, il mio sonno fosse profondo e distendesse pienamente il mio spirito, ed ecco che questo abbandonava il luogo in cui mi ero addormentato, e quando mi svegliavo nel cuore della notte, ignorando dove mi trovavo, non sapevo sul momento nemmeno chi fossi. Avevo solamente, nella sua primitiva semplicità, il senso dell'esistenza, come può fremere nel fondo di un animale. Ero più spoglio dell'uomo delle caverne, ma allora il ricordo, non ancora del luogo in cui mi trovavo, ma di alcuni tra quelli che avevo abitato e dove avrei potuto essere, veniva a me come un aiuto dall'alto, per trarmi dal nulla donde non sarei potuto uscire da solo. Passavo in un momento sopra secoli di civiltà, e le immagini, confusamente in tre viste di lampade a petrolio, poi di camice col colletto rivoltato, ricomponevano a poco a poco i tratti originali del mio io. Forse l'immobilità delle cose intorno a noi è imposta loro dalla nostra certezza che sono esse e non altre, dall'immobilità del nostro pensiero nei loro confronti. Il fatto è che quando mi svegliavo in quello stato, mentre il mio spirito si agitava per cercare senza riuscirci di sapere dove fossi, tutto, le case, i paesi, gli anni, girava intorno a me nel buio. Il mio corpo, troppo intorpidito per muoversi, cercava, seconda della forma della sua stanchezza, di ritrovare la posizione delle proprie membra per dedurne la direzione della parete, la disposizione dei mobili, per ricostruire e dare un nome alla dimora in cui si trovava. La memoria di sé, la memoria delle sue costole, delle sue ginocchia, delle sue spalle, gli presentava una dopo l'altra parecchie delle camere in cui aveva addormito, mentre tutti intorno le pareti invisibili, mutando posizione a seconda della forma della stanza immaginata, turbinavano nelle tenebre. E prima ancora che il mio pensiero, esitante sulla soglia dei tempi e delle forme, avesse riconosciuto l'abitazione accostando i dettagli, lui, il mio corpo, ricordava per ognuna il tipo di letto, la disposizione delle porte, l'esposizione delle finestre, l'esistenza di un corridoio, e insieme le cose che avevo pensato addormentandomi là, e che ritrovavo al risveglio. Il mio fianco anchilosato, cercando di indovinare la propria posizione, immaginava ad esempio d'essere disteso dinnanzi alla parete, in un letto grande con baldacchino, e subito mi dicevo, guarda, ho finito per addormentarmi, benché la mamma non sia venuta a darmi la buonanotte. Ero in campagna, a casa del nonno, morto parecchi anni fa, e il mio corpo, il fianco su cui riposavo, custodi fedeli, di un passato che il mio spirito non avrebbe mai dovuto dimenticare. Mi ricordavo la fiamma della lampada di vetro di Bohemia, a forma d'urna, sospesa al soffitto con delle catenelle, il cammino in marmo di Siena, nella mia camera da letto di Combrè, in casa dei nonni, in giorni lontani che in quel momento mi figuravo presenti, senza rappresentarmeli esattamente, e che avrei rivisto meglio tra poco, quando fossi stato sveglio del tutto. Poi rinasceva il ricordo di un'altra situazione. La parete si estendeva in una diversa direzione. Ero nella mia camera, in casa della signora di Saint-Loup, in campagna. Dio mio! Sono almeno le dieci, devono aver finito di cenare. Avrò prolungato oltremisura la siesta che faccio ogni sera, rientrando dalla passeggiata con la signora di Saint-Loup, prima di rivestirmi. Poiché sono passati molti anni dai tempi di Combrè, quando, nei nostri ritorni più tardivi, erano i riflessi rossi del tramonto che vedevo sui vetri della mia finestra. È un altro genere di vita, quello che si conduce a Thompsonville, in casa della signora di Saint-Loup. Un altro genere di piacere, quello che provo nell'uscire soltanto di notte, nel percorrere, al chiaro di luna, quei sentieri dove un tempo giocavo al sole. E la camera nella quale mi sarei addormentato, invece di vestirmi per cena, la scorgo di lontano quando rientriamo, attraversata dalle luci della lampada, unico faro nella notte. Queste evocazioni vorticose e confuse non duravano mai più di qualche secondo. Spesso, alla mia breve incertezza circa il luogo in cui mi trovavo, non discerneva le une dalle altre, le diverse supposizioni di cui era costituita, così come non riusciamo a isolare, vedendo correre un cavallo le pose successive che ci mostra il cenetoscopio. Ma avevo rivisto ora l'una, ora l'altra delle camere che avevo abitato nella mia vita, e finivo per ricordarmele tutte nelle lunghe fantasticherie che seguivano al mio risveglio. Camere d'inverno, dove una volta coricati, rannicchiamo la testa in un nido in tessuto delle cose più disparate, un angolo del guanciale, l'orlo delle coperte e il capo di uno scialle, la sponda del letto e un numero dei debat rose che finiamo per cementare insieme secondo la tecnica degli uccelli, dandovi appoggiati indefinitamente. Dove c'è il tempo gelido, il piacere che si prova è di sentirsi separati dall'esterno, come la rondine marina che ha il suo nido in fondo a un sotterraneo, nel calore della terra, e dove essendo rimasto acceso il fuoco tutta la notte nel camino, si dorme in un'ampia coltre d'aria calda e fumosa, attraversata dai bagliori dei tizzoni che si riaccendono, sopra l'impalpabile alcova di una calda caverna scavata all'interno della camera stessa, non ardente e mobile nei suoi contorni termici, ventilata da soffi che ci rinfrescano il viso e vengono dagli angoli, dalle parti vicine alle finestre o lontane dal fuoco e che si sono raffreddate. Camere d'estate, dove è bello sentirsi uniti alla notte tiepida, dove il chiaro di luna, adagiato sulle imposte sottchiuse, getta fino ai piedi del letto la sua scala incantata, dove si dorme quasi all'aria aperta, come la cincia cullata dalla brezza sulla punta di un raggio. a volte la camera Luigi XVI così allegra che nemmeno la prima sera mi ci ero sentito troppo infelice e dove le colonnine che sostenevano leggere il soffitto si allontanavano con estrema grazia per mostrare e riservare lo spazio del letto. A volte invece quella piccola e con il soffitto molto alto, scavata in forma di piramide per un'altezza di due piani e in parte rivestita di mogano in cui fin dal primo momento ero stato moralmente intossicato dall'odore sconosciuto di vetivè convinto dell'ostilità delle tende viola e dell'insolente indifferenza della pendola che schiamazzava forte come se io non ci fossi stato. Aveva una strana e impietosa specchiera con base quadrangolare sbarrando obliquamente uno degli angoli della stanza si apriva a forza uno spazio che non era previsto nella dolce pienezza del mio abituale campo visivo dove il mio pensiero sforzandosi per ore di librarsi di innalzarsi per prendere esattamente la forma della camera e giungere e riempire fino in cima il suo imbuto gigantesco aveva sopportato molte notti penose mentre me ne stavo disteso sul letto con gli occhi levati le orecchie tese le narici contratte il cuore che batteva fin quando l'abitudine non avesse mutato il colore delle tende fatto tacere la pendola insegnato la pietà allo specchio obliquo e crudele dissimulato se non proprio dissolto del tutto l'odore di vetivè e alquanto diminuito l'apparente altezza del soffitto l'abitudine ordinatrice abile ma terribilmente lenta che comincia con il lasciar soffrire il nostro spirito per settimane in una sistemazione provvisoria ma che nonostante tutto esso è ben contento di incontrare da che senza l'abitudine e ridotto ai suoi soli mezzi sarebbe impotente a renderci abitabile una casa certo adesso ero proprio sveglio il mio corpo aveva virato un'ultima volta e l'angelo buono della certezza aveva fermato ogni cosa intorno a me mi aveva sistemato sotto le coperte nella mia camera e nell'oscurità aveva messo più o meno al loro posto il cassettone la scrivania il camino la finestra sulla strada e le due porte ma avevo un bel sapere che non mi trovavo nelle dimore di cui l'ignoranza del risveglio mi aveva per un attimo se non presentato l'immagine chiara quanto meno fatto credere possibile la presenza la mia memoria ormai si era messa in moto generalmente non cercavo di riaddormentarmi subito passavo la maggior parte della notte riandando con il pensiero alla nostra vita di un tempo a Combré in casa della Prozia a Balbech a Parigi ad Onsiere a Venezia e ancora altrove a ricordare i luoghi le persone che vi avevo conosciuto quel che di loro avevo visto quello che me ne era stato raccontato a Combré ogni giorno sul finire del pomeriggio molto prima del momento in cui avrei dovuto mettermi a letto e restarmene lì senza dormire lontano dalla mamma e dalla nonna la mia camera da letto ridiventava il punto fisso e doloroso delle mie preoccupazioni avevano escogitato per distrarmi nelle sere in cui il mio aspetto sembrava troppo infelice di regalarmi una lanterna magica con cui mentre si aspettava l'ora della cena coprivano la mia lampada e al modo dei primi architetti e maestri vetrai dell'età gotica esso sostituiva all'opacità delle pareti iridescenze impalpabili soprannaturali apparizioni multicolori dove erano dipinte leggende come in una vetrata vacillante ed effimera ma la mia tristezza ne era accresciuta da che il semplice cambiamento di illuminazione bastava a distruggere l'abitudine che avevo della mia camera e grazie alla quale salvo il supplizio dell'andare a dormire essa mi era diventata sopportabile adesso non la riconoscevo più e ci stavo con inquietudine come in una camera d'albergo o di chalet nella quale fossi giunto per la prima volta scendendo dal treno come in un uomo come in un uomo come in un uomo come in un uomo attra